Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornate sul canale. Oggi ragazze un altro video haul, credo che sia proprio l'ultimo di dicembre perché ho fatto un ordine ad Avon dove c'è qualche regalino e qualcosa che mi ha chiesto mia mamma, soprattutto cose che mi ha chiesto mia mamma. Sono stata da Acqua e Sapone che ho aperto finalmente qua vicino a me e vi faccio vedere giusto due cosine che ho preso da tenere per i regali di Natale. Ho preso due regalini da Just, Just, l'azienda svizzera di prodotti naturali, due cofanetti e poi sono stata da Bottega Verde perché avevo una cartolina veramente invitante, non potevo insomma non passare e approfittarne. Allora inizio subito con farvi vedere Avon, ecco qua il pacchettone, è molto molto grande, mi è proprio arrivato ieri quindi non ho ancora aperto, ho aperto giusto lo scatolone. Allora ho fatto arrivare queste ciabatte che voglio regalare al mio bambino, volevo aprirvele per farvele vedere, pensavo che fosse il sacchettino che si apriva qui che fosse incollato invece è proprio chiuso quindi non riesco. Comunque sono così, sono in stoffa, vedete ricamata, sono grigie e blu con dei disegni di blu, sono molto molto morbide qua, ho sentito che sono molto morbide, hanno la suola così in plastica, almeno non scivola, in gomma. E niente, ho voluto prenderle perché ragazze 9,90 euro, se non mi ricordo male, spettate che prendo la fattura, che è sotto ovviamente, è sotto a tutto, così vi dico bene i prezzi. Vediamo un pochino, pantoffole 9,99 euro per essere proprio precise e sono fatte veramente bene ragazzi, io ho guardato un po' in giro prima di fare l'ordine ad avun visto che adesso vado in giro spesso, però tutte le ciabatte così fatte bene con la gomma eccetera costavano tutte di più. Poi contando che c'è anche la nostra provvigione come presentatrice direi che sono un ottimo a fare e sono molto belle. Poi sempre per lui ragazzo ho preso un pigiamino, eccolo qua il pigiamino di Natale con su tutte le varie renne, questo lo apro poi dopo lo ripiego bene e lo metto via così ve lo faccio vedere. Questo l'ho pagato 22,99 euro, io per lui oramai compro tutte misure da uomo, questa è una L addirittura perché poi usando l'asciugatrice a me si restringe un pochino tutto, non so a voi ma a meno che è un cotone di qualità super super, mi si stringe tutto. Allora si presenta così, è in cotone 100% con questo bellissimo fiocchetto che dietro ha lo strap, quindi poi si può rimettere tranquillamente. La magliettina è così, c'è questa bellissima renna, la manichina rossa che va giù così, larga, nel senso non ha il polsino ed è blu nel davanti. E i pantaloni invece hanno la culissi in vita, oddio mi sembra molto grande, però a lui piacciono le cose molli, poi di notte così, ecco qua, sono tutti così ricamati con le renne, le cosine del pino, la neve e finiscono anche loro così larghi, normali, perché a lui ad esempio non piacciono quelli coi polsini perché dice che gli sente la gamba come intrappolata, quindi spero che vada bene. Poi invece vi faccio vedere tutte le cosine che ha preso mia mamma, che ha voluto prendere due pantofoline di queste qua, che sono molto molto carine, ne apro un sacchettino, tanto sono appunto di mia mamma, posso aprirle, perché l'anno scorso gli aveva prese nere, nere, grigio scure, e gli sono piaciute tantissimo. Eccole qua, sono molto molto morbide, dentro hanno tutte queste specie di stoffa, lanina, molto molto calda, e sotto hanno tipo le calze antiscivolo, questi cosini di plastica, in modo tale appunto che non si scivola. Molto carine con il fiocchettino, e queste sono costate solo 5,95€ il paio, quindi le ha volute prendere due paia, così almeno si è fatta diciamo un pochino la scorta. Poi sempre lei ha voluto approfittare dell'offerta dei prodotti a new, della linea questa qua viola, che ha oltre 60 anni, che prevedeva la crema contorno occhi, nel formato vendita normale, da 15 ml, più le creme piccoline, quella da giorno, da 15 ml, e quella da notte, eccolo qua, questo è un set, lo appoggio qua, e poi c'è l'altro set, sempre con occhi, notte, e quella da giorno, che è qua, eccola qua. Così ha voluto appunto approfittare, e queste qua le abbiamo pagate, oddio non lo trovo, pantofole, pantofole, tutte pantofole, a new, ah non lo trovo perché è suddiviso, i prezzi sono suddivisi, mi sembra 11,99 euro, o 10,99 euro, il trio di prodotti, qua me li divide per ogni prodotto, 2,59 euro, 6,81 euro, eccetera, quindi infatti cercavo qualcosa sulle 10 euro, comunque molto molto convenienti, perché vabbè la crema in occhi è formato normale, queste sono da 15 ml, quindi durano anche un po' di tempo, insomma non sono proprio piccole. Poi ha voluto prendere due lacche, questa qua tenuta forte, che lei proprio adora, ha voluto fare un po' di scorta alla mia mamma, 3,99 euro l'una, queste qua, e poi come ultima cosa è stata tratta dall'offerta sui mascara, due mascara 9,99 euro, ha voluto prendere questi due, il Lavon True Ultra Volume, che è questo, e il Mark Big Big e Extreme Volume e Length, mascara allungante e volume, così vediamo se ci piacciono, perché i mascara Avon non è proprio che non ci piacciono, però non danno proprio quell'effetto strong, che piace diciamo a me e mia mamma, però vediamo questi qua, c'era una buonissima offerta, quindi mi ha approfittato. Poi ragazzi ho tutti i vari opuscoletti dell'Outlet, ne ho due, ho questo che è Avon, supplemento di Natale, che è un supplemento bello cicciotto, aspettate che le butto di qua, poi ho sempre un Avon Outlet, ho due cataloghi della campagna 16 e della campagna 15, eccoli qua, 15 e 16, poi se volete vedere qualche video dei cataloghi, dei supplementi così, lasciatemi un commentino, così ve lo metto. Poi c'è l'Avon per te, e poi qui invece parla di premi, se portiamo nuovi amici in Avon, e la fattura per effettuare appunto il pagamento, e con Avon ho finito. Per me ragazzi non ho preso nulla, perché sapete sto smaltendo un po' tutto, e quindi non voglio più, faccio un po' fatica, ma ce la sto facendo, sono brava, oddio ce la sto facendo, poi ho preso d'altre parti, però cose che comunque non ho, non ho, e non ho fatto doppioni, insomma. Vi faccio vedere appunto, che sono passata da Bottega Verde, ecco qua il mio sacchettino, anche qui ragazze ho resistito più che ho potuto, però avevo veramente un'offerta, un'offerta imperdibile. Allora, innanzitutto mi è arrivata la cartolina, non so se è già arrivata anche a voi, per avere, con la raccolta punti che si fa facendo la visita premiata in negozio, un set di pentole. Adesso non ce l'ho qui da farvi vedere, guardavo di là, perché di solito lì appoggio le cose della posta, non ce l'ho qua da farvela vedere, però è veramente molto molto carina. Se non vi è ancora arrivata, magari chiedetela appunto nel vostro negozio, oppure online sul sito. Allora, cosa ho comprato? Siccome sto usando i prodotti per la pelle sensibile, e mi sto trovando bene, ma non ho scorte perché avevo in casa prodotti normali, ho voluto prendere della linea Avena, sì, questa mi sa che è la versione vecchia e questa è la versione nuova, sia il latte detergente che il tonico. Allora, e vi dico un attimino cosa li ho pagati. Allora, il tonico, devo fare conti ragazzi, mi sento già che sbaglio. 12,99 euro, costerebbe a prezzo pieno, ho avuto uno sconto di 8 euro. Quindi, se fosse 5 euro, giusto? 8, 9, 10, 11, 12, 13, sì, come i bambini. L'ho pagato veramente poco, avevo uno sconto su una cartolina, che avevo appunto, e l'ho pagato veramente poco. Poi ho voluto prendere anche il latte detergente delicato, questo da 12,99 euro, ho avuto uno sconto di 6,50 euro. L'ho pagato al 50%, giusto? Sì. Quindi l'ho pagato 6,50 euro, appunto, 6,49 euro forse. Poi avevo un'offerta a 4,99 euro un prodotto piedi, quindi ho preso questo, il nostro lavapiedi rinfrescante, che ci piace un sacco, per rinfrescare appunto i piedini alla sera. Sempre nella cartolina avevo la possibilità di prendere la matita con tornocchi, questa qua che è la nuova linea 100% naturale vegetale, cioè la nuova linea biologica che fa Bottega Verde per quanto riguarda il make-up. È ancora sigillata, non l'ho ancora provata, poi vi farò sapere come mi trovo e se scrive bene. Magari facciamo anche un video insieme dove la proviamo. E in regalo c'era il mascara, questo qua, mascara volume extra black con vitamine E e proteine della seta, che sono rimasta veramente di stucco, perché pensavo fosse, avete presente quei mascara piccolini che danno come campioni? Pensavo fosse quello lì come prova campione. Invece ragazze, un mascara grandezza normale. Cioè il mio scontrino è di 19,46€ come totale e ho avuto in regalo un mascara spendendo veramente pochissimo. Cioè Bottega Verde secondo me a volte fa degli sconti e dei regali che non si possono lasciarli, insomma. Scorte sì, scorte no, bisogna andare. Poi mi hanno regalato, mi hanno regalato, mi hanno dato questa cartolina dove ci sono qui delle offerte e poi mi hanno lasciato dei campioncini. Solo quella cartolina lì mi hanno... Ah no, eccolo qua, anche questo, che è un, pensavo fosse un campioncino perché è piccolino. Auguri meno 50% sulla prima spesa del 2019 su tutti i prodotti, penso. A partire dal prezzo di listino su tutto l'assortimento ad esclusione di prodotti novità, mini size, accessori e tessere regalo. Scusate, ho ancora un pochino di... ho avuto un po' l'influenza. E come campioncini mi hanno dato Elisir dei desideri, un latte corpo che non ho mai sentito, quindi mi fa molto piacere, un burro corpo ultra ricco al karité, che adoro il karité, il gelsomino notturno come profumo e una crema viso uva rossa, queste qua, che come vedete al 92% di ingredienti di origine naturali è stata rivista e stanno appunto facendo i prodotti sempre più in una filosofia naturale, quasi biologica, insomma. E questi sono i miei acquistini bottega verde, poche cose ma devo dire veramente soddisfatta. Poi, scusate, mi abbasso, sono stata da Acqua e Sapone, col sacchetto di Tigotà, mi ha guardato male quella lì, però è questo ciò. Loro non ce l'avevano, un sacchetto bello da comprare lì, non lo vedevo. Poi c'era un casino, ragazze, mi è venuto in mente di andare di sabato perché volevo andare con mio marito, non sapevo bene dove fosse, mi sento imbranata in queste cose, allora volevo insomma che ci fosse anche lui. E ho portato anche mio figlio, cioè loro che dopo tre minuti che eravamo arrivati già sbuffavano perché non riuscivi a passare con... Abbiamo preso il cestino, quello da tirare, neanche il carrello, cioè c'era un massacro di gente in cassa, non vi dico, va bene. Però vi devo dire, ragazzi, che c'erano tantissimi sconti sui prodotti per la casa, tanti, 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 davvero. Poi prodotti di qualità, comunque di marca, ho visto dei prezzi veramente bassi. Non ho comprato tanto io perché appunto quando c'è così tanta confusione non mi viene neanche voglia. Vi faccio vedere le cose che ho comprato più interessanti, che sono due cofanetti di Fittorelax. Perché appunto da Acqua e Sapone ci sono i prodotti di Fittorelax, ci sono tantissimi, almeno qui da noi c'è una parete con quasi tutto il biologico piena. Tantissimi prodotti e c'erano gli sconti sui cofanetti, questi cofanetti qua con il bagno doccia e il latte corpo da 250 ml, credo ognuno perché non è specificato, sì scusate, sono di qua le figure. Eccoli qua. E li ho pagati solo 5,99 euro. Aspettate che prendo lo scontrino prima che sbaglio. 5,90 euro. Ecco qua. Quindi bagno doccia e latte corpo che per fare un regalino secondo me è proprio bello. Mi sembra che erano scontati del 40%, quindi veramente un buono sconto. E poi l'ho preso anche al cocco, uno alla vaniglia e uno al cocco, con lo stesso prezzo. Molto molto carini, ragazzi non lo apro perché sono sigillati, se devo fare qualche regalo di Natale, almeno li ho in casa. Sapete quando magari qualcuno si presenta e ha un regalo, è un po' inaspettato magari perché è così. Insomma le nuove amicizie, le nuove conoscenze che magari ti portano un pensiero, almeno anch'io un pensiero da dare a loro. Poi vi faccio vedere cosa mi hanno regalato, perché vabbè poi ho preso tutti i detersivi per la casa, però non li ho qua da farvi vedere. Quelli lì ve li faccio vedere nei prodotti finiti. E vi devo dire anche ecco che c'era una parete piena di profumi, ma di profumi quelli magari un attimino più dozzinali, ma anche i profumi proprio di Gucci, di Narciso Rodriguez, cioè quelli proprio di profumeria. Tu potevi provarli tranquillamente, nessuno ti diceva niente, non so se per via dell'apertura, che erano anche un po' più soft, però mi è piaciuto tanto, insomma. O forse perché c'era anche appunto tanta gente, anche volendo non riuscivano a stare dietro a tutti. Però proprio bello, mi è piaciuto tanto. E mi hanno dato un opuscoletto, con tutti gli sconti del Natale, con tutti i vari prodotti, i vari set, eccetera, che guarderò con calma. Sono andata sabato scorso, adesso oggi è venerdì che sto registrando il video, penso poi di pubblicarvelo subito. Poi mi hanno dato, questo qua, premia il tuo ritorno, acqua e sapone, che ci sono appunto degli sconti che si potranno utilizzare sull'acquisto di un prodotto a scelta. Ah, 20% sull'acquisto di un prodotto a scelta, validi fino al 31 di dicembre. Va che bello! Quindi non l'avevo ancora visto. Mi hanno dato anche dei grattevinci che non ho qua, che ce li ho in giro perché avevamo iniziato a grattarli. Poi mi hanno regalato un... Non è vero, questo l'ho comprato io, scusate. I guanti li ho comprati io, mi sono rimasti nella borsa. I guanti della Vileda. E li ho pagati 2,15 euro, però questi non erano scontati. Gli ho presi perché mi servivano appunto. Mi hanno regalato la spugnetta. Mi ricordavo qualcosa che avesse a che fare con lavare i piatti. Questa spugnetta. E poi questo qui di Baldinini. Sì, che non ho ancora aperto. Penso che sia un foulard perché... Ma che bello! Non l'avevo ancora aperto. Guardate che bello! Pensavo che era il solito foulard, quelli lì con tutti i fiori che sono un po' più da sciuretta. Non l'avevo neanche guardato. Invece, aspettate che lo apriamo insieme. È leggero, è proprio di stoffa di foulard. Quella stoffa non di lanina. Però è bellissimo, ragazze. Così, coi pois, coi pois e i cerchi. Va che bello! Poi il nero non ho mai niente perché i neri non li trovo mai belli. Bello! Mi piace! Mi hanno fatto un bel regalino e non l'avevo neanche guardato. Perché nella mia testa pensavo non mi piacesse, insomma. Invece, ecco qua, anche questo bellissimo foulard. Comunque, sono rimasta molto soddisfatta. Mi dicevano che acqua e sapone è un po' più... Ci sono più sconti rispetto a Tigotali, Lapuai. Non lo so se è vero perché, appunto, non c'ero mai stata. Però devo dire che mi è piaciuto molto come è messo il negozio, insomma. Mi è piaciuto veramente tanto. Poi, le ultime due cose che vi faccio vedere sono due cofanetti di Just, Just, Just. Just, no, Just, no. O Just o Just. Eccoli qua. Allora, il primo è questo qua. Si presentano così, in scatoline chiuse con... Cioè, scatoline che si aprono così. Volevo dire non così, ma... Vabbè, ci siamo capite. E questo qui ha questa bellissima bustina con tutti i fiorellini e contiene... Ah, addirittura anche un portachiavi. Il portachiavi non me lo ricordavo neanche più, ragazza. Un po' da asciura, eh, con questi fiorellini. Infatti, pensavo un po' di regalarlo a mia mamma, sinceramente, questo cofanetto. Contiene una crema mani alla camomilla, una crema alla calendula e una crema al timo che sono, queste qua, praticamente, sono tutte da 30 ml. Sono in salvavita dell'inverno, mi diceva la ragazza, perché, vabbè, la crema a mani, sappiamo che le mani si screpolano. Io, tra l'altro, l'ho provata un profumo buonissimo, si assorbe, non lascia le mani unte, è fantastica. La crema calendula per la pelle irritata, dal freddo, dal vento, è perfetta, da mettere anche sul viso tranquillamente. E la crema timo da mettere qua, tipo visvaporum, aiuta nella respirazione, con i raffreddori, io anche questa ce l'ho in grandezza normale, oppure come prevenzione sotto i piedi tutte le sere. Invece, magari, di mettere una crema a piedi in inverno, si mette questa, aiuta, appunto, per il raffreddore, per... rinforza un pochino di più, diciamo così, le nostre difese immunitarie. Con la sua pochette, il portachiavi, devo dire, molto molto carino e vi dico, aspettate quanto l'ho pagato, perché non mi ricordo. Mi ha messo la fatturina. Allora, l'ho pagato 22 euro, quindi compagni di vita, si chiama questo set, perché, appunto, serve un po' per gli acciacchi dell'inverno, diciamo così. Molto molto carino e sono rimasta davvero soddisfatta. È proprio bello anche questo per fare un regalo confezionato bene e poi l'altro che ho preso invece è questo qua, che è un pochino più grande, la scatolina è sempre uguale, si apre qua in alto col suo coperchio. Questo ragazza invece vorrei tenerlo per me, perché contiene questo qua che è un gel doccia, camellia e amiris e non so perché mi affascina. Amiris non so cosa sia, però è qualcosa, vedete qua, di legnoso. Mi ispira molto, non lo apro ancora, perché essendo prodotti naturali, comunque se apro parte la scadenza, che è un attimino più veloce rispetto ai prodotti tradizionali. E poi c'è la crema corpo, burro corpo, burro camellia, amiris corpo. Guardate che bello, un bel scatolino da 100 ml. Non sono prodotti biologici, prodotti just, sono prodotti che utilizzano estratti naturali, ma sono veramente fantastici, sono molto concentrati, sono molto buoni, soprattutto quelli, tra virgolette, curativi, aiutano veramente tanto. E poi in regalo, qui c'è una sciarpina di para, 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 non so neanche come si dice, abbiate pazienza. Wow, è tutto confezionato, super, super confezionato, insomma. Eccola qua, è in questo color torto, rabège, ha le frangettine così piccoline, in questa stoffa che sembra un po' stropicciatina, molto bella ragazze, cioè molto bella, mi piace la texture, la stoffa, bella, va che bella, mi sono rifatta tutte le sciarpe, regalate praticamente, perché anche questa è quasi regalata nel cofanetto, va che bella, sono proprio contenta. E questo è costato 34 euro, praticamente burro corpo, il gel doccia, e la sciarpina. Costicchiano un po' anche questi, ma sono prodotti, ripeto, super concentrati, questo mi ha detto che ce ne va proprio tre goccine, per farti la doccia, e avevo voglia insomma di cambiare un po', diciamo così, dai soliti, tra virgolette, prodotti che ho. L'unica cosa che mi sono concessa, perché è proprio particolare, tra l'altro un'edizione limitata per il Natale, non è una linea che hanno sempre in vendita, quindi non potevo lasciarmela scappare, eh, questa qua non potevo, insomma, scorte sì, scorte no, c'era solo adesso. E niente ragazzi, questi sono tutti i miei acquisti, per qualche regalino appunto, e qualche auto regalino, spero che il mio video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio, ora vado a fare un giretto nella nebbia di Milano, meglio di Corvetta, io abito in provincia di Milano, vado a fare un bel giretto, e devo fare un po' di shopping, però shopping di cibo, porto mia mamma, intanto ci facciamo un giro, e niente, io vi auguro un buon weekend, vi do ancora un grosso bacio, e ci vediamo col prossimo video, ciao! Assolutamente! Assolutamente!